Dopo forse una delle migliori prestazioni di squadra di questo giro di ritorno contro una big del campionato come Omenia purtroppo non dovrebbe bastare per arrivare nell'obiettivo che era stato preannunciato per lungo tempo dalla società del quarto posto rimane comunque la qualificazione alla successiva fase adesso ancora un appuntamento per sfatare un po' quello che sono state le 13 sconfitte consecutive in campo esterno e si va a Sansevero Sì, diciamo che è stata la miglior prestazione dall'inizio, io parlo riguardo a quanto sono arrivato qui soprattutto a livello difensivo, era importante vincere per rientrare tra le prime dieci non siamo riusciti, non credo che riusciremo a entrare tra le prime quattro che era un po' l'obiettivo però in un campionato così duro diciamo che se rimaniamo rimaniamo fuori per due punti e diciamo due punti sopra stanno lottando in quattro squadre per gli ultimi due posti e due punti sotto ci sono squadre che rischiano di stare fuori tra i primi dieci quindi il campionato è veramente duro diciamo che non mi sento di dire che sia proprio un insuccesso sono contento, siamo contenti della squadra e del risultato che abbiamo ottenuto Secondo te qual è la sorpresa e qual è secondo te la delusione del campionato a livello di squadre? Beh, parlo prima delusione, non mi aspettavo sinceramente che Chieti arrivasse così cioè rispetto al campionato che ha fatto l'anno scorso, esatto, sì e invece sorprese direi aggrigento cioè che comunque sono tutti buoni giocatori però non... e poi un'altra sorpresa è la rimonta che ha fatto Reggio Calabria dall'ultimo posto che aveva inizio il campionato dopo che hanno acquistato un mio ex compagno che è Piazza e hanno fatto una gran rimonta e credo che riusciranno a salvarsi immagino Grazie! 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 Grazie!